Baru è un concorrente amatissimo della casa del grande fratello Vip. In poche settimane è riuscito a scavalcare tutti. L'indice di gradimento del pubblico e stanotte ha fatto sognare i suoi fan. Scopriamo cosa è successo nelle ultime ore. Al grande fratello Vip è piaciuto subito per la sua ironia e schiettezza. E il pubblico lo riconosce non come un Vip, bensì come l'uomo della porta accanto. Forse sta proprio qui la sua forza attrattiva verso i fan, che lo stanno salvando al televoto, che lo vede scontrarsi con Natalie e Federica. Il pubblico vorrebbe vedere uniti Jessica e Baru. È davvero possibile una love story tra loro nonostante la differenza oggettiva di età? Dopo stanotte, probabilmente sì. Un audio di sottofondo fa percepire le sue parole. Mentre chiacchiera proprio con la principessa Selassie e il pubblico non ha dubbi, Baru si è dichiarato. Stanotte è successo davvero di tutto in casa. Forse però da stanotte qualcosa è cambiato. Secondo il parere del pubblico, quella di Baru era una chiara allusione e dichiarazione e di interesse verso Jessica. Voi cosa ne pensate?